Ciao a tutti e benvenuti a tutti e benvenuti a questo mio contenuto multimediale Oggi siamo con la facecam miracolosamente Perché come la scorsa volta ho fatto anche oggi miracoli Con il post-produzione, con l'editing video Oggi siamo in una main save Quindi, Tracy mi andrà a salvare Io dovrò cercare di uccidermi su Minecraft Ovviamente a Youtube non censuriamo nulla su Minecraft Si comincia Adesso Mannaggia, non ho tolto l'F5 Ok ragazzi, bisogna essere molto cauti E anche con delle mosse anche scaltre Ok, ok, ok No, no, no E per fortuna che te eri bravo con l'arco, Tracy Eh, sì Fortuna che te Eh, no, e ora mi sta ammazzando io Ah, ah Fortuna che te eri bravo, eh Ok, perfetto Uh, fermo No, ho visto la volpe Vabbè, fa niente Ma che me frega a me Uh E adesso sono cavoli Allora, sono morto Direi si aveva trovato della lava Ma dov'è la lava? Eh, mica te lo dico Eh, certo Tu non me lo direi mai infame che sei Però c'è C'è stato un lago Oddio, c'è il mare C'è il mare Vai, vai Vai, vai Numero uno Centro di mare Centro di mare Abbiamo vinto Abbiamo vinto ragazzi Abbiamo vinto Che cavolo Ma valla che bello No No I magma cube No I magma cube No No I magma cube No No Oddio, sì Non ti trovo Sì, sì Dai Dai Porca putta Dai Mannaggia Danno 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 Vai Vai Via 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 Madonna Oh È combattutissima È No Ok Trassi È cominciato Il timer Vai Vai Lì Mortacci Perché Avremo E Perché Avremo E Perché Avremo Me No 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 Ragazzi Ragazzi No Non può Essere Non può Essere Allagato Ho tirato Una laggata Ma io Non mi Arrendo Io Non mi Arrendo Non mi Arrendo Ragazzi Il primo Round Ho perso Ma Mi restano Due round Da fare Vai 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 No 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 Ok Perfetto Perfetto Ragazzi Ci dobbiamo Riuscire Perché Veramente Oggi Mi Incavolo Oggi Veramente Mi Incavolo Mi Incavolo Questo Questo Il Secondo Eh Sì No Eh Dove Sono Eh No Ti ho perso Di Vista Mannaggia Stai a portare Del nether Il Mastro Del Kill Ragazzi Stavi nel portale Del nether Veramente No Non stavo nel portale Avevo trovato Una Casuale Casualissima Ponte di lava Ragazzi Iniziamo subito Vai Allora Ti ricordo Che Non posso Sì Sempre di qua Vado Anzi Adesso Cambio Direzione Allora Non abbiamo Detto ai nostri Amici Che non Possiamo Morire Di tanto Da caduta E che Non possiamo Più Morire Con la Lava Ma Con l'acqua Si però Vorrei Cercare Un Villaggio Ok Se questo Non mi Rompe Le scatole Sempre Con le Frecce Con le Pozioni Ho preso Una Freccia Non Do Non Tardo Più Ah 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 An Già Forza 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 Dai Che ce la Facciamo Dai Che ce la Facciamo Mi devo Solo Ricordare Che non Possiamo Caverna Stupida Stupida Caverna Che non C'è niente Mannaggia Però Dai Come possiamo Perdere Così Devo Solo Trovare Un Villaggio Madonna Solo Un Villaggio Solo Un Fottutissimo Villaggio Dai 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 Eh Vedi Che Dressi C'è Caduto Eh Vedi Che C'è Caduto Nella Trappola Ragazzi Si la Mia voce Stressante Molto Molto Stressante Ma non Me prega Nulla Oggi Dobbiamo Vincere Questo round Almeno Dobbiamo Vincerlo Perché Veramente Il timer È a tre Minuti Quindi Non abbiamo Diciamo Tutto Il tempo Del mondo Ok No C'è Mezzo Cuore Parca No Ma no Cosa No Cosa Che ti Hai Vinto Non Ho Vinto Perché Io Ti Devo Salvare Oddio No No Vabbè Io Pensevo Di essere Morto Di Danno La Caduta Ragazzi Ma Che Fail Che Fail Epico Perché Che Fail Epico Perché Praticamente La freccia Ti fa Mezzo Cuore Di Danno Quando Si Ti cura Ma Ti fa Mezzo Che Fail Epico Che Fail Epico Il problema È che Io Ti stavo A spingere Per farti Cadere Da Danno Da Caduta Invece No Mannaggia Però Che Fail Lo sai Che Questo Io Te lo Rimpiangerò Per Tutta La Vita Per Tutta Ragazzi Ragazzi Che Fail Epico Ma Ci dobbiamo Fermare Per questo Jacopo Parte Dressi Parte Adesso il Tempo Mannaggia Mannaggia No Cambio Direzione Ora se Ti ammazzo Però Vinco Però Non puoi ammazzarmi Perché C'hai Quella di Health Boost Quindi Non puoi ammazzarmi A meno che Non ti prendi Quella di Instant Damage Però È impossibile Prendere Perché Ci vuole Tanto Tempo 5 minuti Finiranno Ti ricordo Anche Oddio Cosa stai usando? Perché Mi fai così? Ma perché Mi fai così Knockback È perché Salto No Forza È meglio Ti cuore Ti sai Quello Che ho In mente Io Vero Non ti puoi Buttare Nella lava Lo sai Lo so No 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 Dai Mannaggia Volevo fare Un Dai Volevo fare Un trick Dico Che tipo Io mi Se Dai C'era Vi spiego Il trick Volevo Perdere La maggior parte Dei cuori Nella lava Puoi andare Sui magmablock Magmablock Vabbè Italiano Sui magmablock E Praticamente Volevo morire Tramite Magmablock E questo sarebbe Stato legale Perché sono fatti Di là Ma comunque Sono un altro blocco Adesso Da questo momento Parte il timer Vai 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 Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Tra l'altro Io Lo dico Arraffiga Super Arraffiga Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Sarebbero state anche Utili le pozioni Di cicità Perché tu non vedi nulla E sei Costretto a Mi è venuta Un'idea Voi lo sapete Sapete l'idea mia Che mi è venuta Adesso Vero Eh Mi comunico Telepagativamente No No Sì 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 Ovvio Che sì Ovvio Ovvio Resti record Io ti saluto Resti record Devo dire Ciao No Che è successo No 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 Aspetta Devo ripare tutto Resti record Che porco due Dai Fisca Ok ragazzi Se il video Non me ne prega niente Lasciate like Iscrivete Lasciate anche un commento Per inviarmi un feedback Iscrivetevi al canale E io vi saluto Gli occhi saluta Dressi vi saluta Ciao ragazzi Si va out Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale